John Borno ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti! Nei giorni scorsi sul mio canale si è svolto il fantacalcio degli youtuber e c'è stata l'asta del fantacalcio in live. Ci siamo divertiti, siamo stati bene, un sacco di gente, per questo vi ringrazio. Ieri ho fatto uscire la mia formazione al fantacalcio degli youtuber e devo dire che bene o male avete apprezzato tutti quanti. Oggi però ho un'idea, oggi vi presento, e insomma vi dico anche la mia, la formazione al fantacalcio degli youtuber di Paolo Bonolis e Daniele Brogna. Però vi lancio anche una sfida, siamo a 491.007 iscritti, arriviamo a 492.000 iscritti entro domani alle 2 e domani vi porto anche la formazione di Gabomen, Fabio e Gladiatore. E chiaramente loro ve l'hanno già portata, ma io vi dirò la mia, darò un voto e dirò secondo me dove possono arrivare. Quindi se questi video vi interessano, mi raccomando, tanti iscritti e tantissimi like qua sotto. Vi ricordo che noi quest'anno il fantacalcio lo faremo su Fantamaster, la miglior app per quanto riguarda il fantacalcio. Vi lascio qui sotto i link in descrizione per scaricarla anche voi e per giocare anche voi al fantacalcio su Fantamaster. Inoltre vi ricordo che se volete con solo 5,99€ su Fantamaster potete fare il Master Pack. Che cos'è il Master Pack? Il Master Pack sostanzialmente è il premium di Fantamaster, costa 5,99€ e siete a posto tutto l'anno. E avrete la possibilità di giocare con loro, di fare il grande campionato in cui si vincono un sacco di premi, Amazon, Spotify, Playstation, Xbox, insomma che ve lo dico a fa? Ma vi dico anche che facendo il Master Pack avrete la possibilità di vedere le notifiche dei vostri avversari, tutte le statistiche che non vedete, insomma un sacco di roba. Se vi va il link ve lo lascio qui sotto in descrizione. Un'altra cosa, l'ultima. Proprio ieri è nata la pagina ufficiale su Instagram del fantacalcio e degli youtuber, nel quale metteremo tutti gli aggiornamenti, le formazioni, avrete la possibilità di commentare. Quindi mi raccomando venitela a seguire perché l'abbiamo creata proprio ieri. Detto questo, ciancio alle bande e gettiamoci nella formazione dei Brognolis. Allora, loro hanno scelto di investire su due portieri, cioè portieri di due squadre, il primo e il secondo di una squadra e poi il primo di un'altra squadra. E da quello che vedo sono rimasti, diciamo, molto nel Lazio. Ovviamente fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate per reparto della squadra dei Brognolis, di Daniele Brogna e di Paolo Bonolis. Innanzitutto Provedel. Provedel l'hanno pagato 43 fantacrediti, lo scorso anno ha fatto una marea di clean shit, ha fatto dei clean shit, ragazzi, come se piovessero. E hanno scelto... Come se... come se piove... E diciamo che hanno scelto di ripuntarci su Provedel. Per me hanno speso abbastanza perché 43 crediti è spendere abbastanza. Però diciamo che su Provedel sono incappati in quel alto e basso, no? Perché avessimo fatto l'asta prima, probabilmente questa cifra sarebbe stata giusta. L'avessimo fatta dopo le prime due, probabilmente avrebbero speso molto meno perché la Lazio ha fatto due sconfitte. Avendola fatta dopo il Napoli, cioè dopo che la Lazio ha vinto a Napoli, ecco che la cifra si è rialzata. Però alla fine tutto sommato 43 crediti per Provedel in un fantacalcio a 10 con 500 crediti, con i prezzi che ci sono stati che hanno girato in generale, ci può anche stare secondo me. 43 per Provedel è un investimento che si può fare, anche se poi ragionando, uno dice la Lazio ha preso un secondo portiere, che comunque potrebbe giocare di tanto in tanto quando la Lazio fa la Champions. Quindi loro giustamente ci hanno puntato e allora hanno speso anche un creditino per SIP, insomma qua si può dire poco o nulla. La cosa che mi incursisce di più sono i 5 crediti spesi per Turati. Frosinone è partito bene, io vi dico la verità inizio anno l'avevo dato per spacciato, capiremo perché passate le tre partite quindi potrebbe essere adesso le perdete tutte da qui fino alla fine. Non mi sembra che il Frosinone abbia una difesa chissà quanto altolocata, però comunque io penso che i Brognolis giocheranno sempre, sempre, sempre con Provedel in porta, insomma in ogni caso o con Sepe quando Provedel magari riposerà una partita, due partite durante l'anno. Cioè quindi alla fine ha anche senso interrogarsi sui portieri. Un buon parco portieri secondo me. Io devo dire che a mio avviso, come vi ho già detto, forse la scelta che faccio di solito io su un altro portiere oltre quello big è un portiere che mi garantisce una continuità. Cioè in questa formazione quando loro andranno a mettere Turati? Per me mai. Cioè se tu avessi avuto magari, che ne so, un Di Gregorio, un Consigli, un Milinkovic-Savic, oltre a Provedel chiaramente avresti potuto fare un'alternanza. Ma qui anche in un ipotetico Roma-Lazio e Frosinone-Torino io faccio fatica di immaginare che loro andranno a mettere Turati. Penso che continuerebbero a mettere comunque Provedel. Il fatto sta però chiaramente che se tu vai poi a prendere quelli che vi ho citato prima, quindi i Di Gregorio, i Milinkovic-Savic, eccetera, comunque 12, 13, 14, 15 li vai a pagare e quindi sfori lo stesso questo budget. Detto questo voto ai portieri, secondo me 7,5. Hanno fatto un'ottima scelta di portieri. Vi ho detto poteva diciamo essere un po' più impeccabile Turati, lo capisco poco, però comunque alla fine è pur sempre un titolare. Difensori. Loro hanno studiato un metodo che è tutto loro suppongo. Prendere quattro difensori pagati più di 10, che quindi nel loro immaginario saranno titolari, e poi prendere altri quattro titolari, quando dico nel loro immaginario saranno titolari intendo titolari nella loro squadra, e poi altri quattro che sono sempre titolari però tutte quattro pagati uno. Quindi insomma capite bene che hanno comunque preso otto titolari e adesso andiamo a scoprire. Quello che hanno pagato di più è stato Bastoni dell'Inter pagato 17. Ora, non è male, però considerando che non c'è il modificatore difesa, prendere a 17 un braccetto di sinistra mi lascia un pochino basito. Anche perché poi, insomma, le scelte che fai devono secondo me andare più sui terzini. Cioè se vai a prendere i centrali in un fantacalcio nel quale appunto il modificatore difesa non c'è, insomma io l'avrei pagati uno. Invece clamorosamente loro hanno pagato uno i laterali e abbastanza i centrali. Secondo me 17 crediti per Bastoni sono abbastanza esagerati, insomma, ripeto, considerando che è un braccetto di sinistra. Poi, insomma, l'Inter vincerà tante partite, quindi sta che si voglia un giocatore che quasi sempre la sufficienza e che magari qualche gol da qui a finale te lo regala pure, però comunque si parla pur sempre di un difensore centrale. Secondo nome, Pavard. Pavard hanno speso 15 crediti, quindi hanno preso sia il braccetto di sinistra che quello che dovrebbe essere il braccetto di destra dell'Inter. Da una parte uno direbbe, vabbè sì, che cazzo però, cioè prendi due dell'Inter, due difensori dell'Inter. Non è mai conveniente prendere due calciatori della stessa squadra, dello stesso ruolo. Ok, però dell'Inter sì, secondo me, perché per me quest'anno l'Inter vincerà lo scudetto. Anche se poi, ripeto, non avrei investito sui centrali, piuttosto sui brac... Cioè nemmeno sui braccetti, piuttosto sui laterali, però comunque a 15 ci sta. Poi hanno investito 10 su Buongiorno. 10 su Buongiorno, anche qua il discorso è sempre lo stesso, cioè difensore centrale, anche se poi è il capitano del Torino, quindi giocherà sempre, e 11 su Scalvini. Ve l'ho detto, è strano, perché comunque alla fine hanno speso solo e soltanto soldi... Cioè hanno speso alla fine 53 crediti per quattro difensori, tutte e quattro difensori centrali. Cioè quindi come concezione è abbastanza strano, se posso essere sincero, no? Cioè penso che voi converrete con me, però comunque hanno fatto un comparto di tutto rispetto. Quindi hanno iniziato a prendere calciatori a 1. Innanzitutto Olm dell'Atalanta 1 è un colpaccio. Non volevo prendere io gli esterni dell'Atalanta perché ce ne ha tantissimi. Ce ne ha tantissimi, da Ruggeri a Zappacosta, passando appunto per Olm, ce ne ha un altro che non... Ah, te borcia! Cioè l'Atalanta c'ha un... E meno male che ha piazzato Soppi l'ultimo giorno, se no ce ne aveva anche un altro. Cioè non sapevo dove mettere le mani. Però comunque a 1 Olm è un ottimo colpo. Quindi hanno preso Birindelli a 1, che lo scorso anno insomma ha fatto discretamente bene e che se gioca titolare a Munsa sulla sinistra potrebbe regalargli delle gioie. Dossena del Cagliari a 1, che è un altro titolare. Poi bisognerebbe valutarlo anche, però comunque intanto è un altro titolare. Infine Ien a 1 dell'Ellas Verona. Anche lui, insomma, ok, qui è un centrale, però vai a prendere un titolare e lo paghi prezzo base. Loro hanno appunto aspettato che finissimo tutti dopo aver preso quei 4. Hanno detto, ok, falli finire e poi andiamo a prendere i 4 giocatori che rimangono all'asta, che però sono dei titolari. Quindi insomma l'idea di base è stata questa qua. Detto ciò, io sottolineo proprio nella precisione, come secondo me dando un voto alla difesa io do 6 più. Nel senso a me, per me la difesa è sufficiente, però credo che abbiano sbagliato qualcosa, perché questi sono i miei due centesimi chiaramente. Cioè hanno investito soldi, perché loro hanno speso 11% di budget sulla difesa e hanno investito dei soldi in delle parti dove si poteva anche evitare di investire quei soldi lì. Cioè se tu vai a spendere tutti quei soldi per 4 centrali, beh, secondo me insomma non è che hai fatto molto l'affare considerando poi che hai speso 17 per bastoni e 15 per Pavard in un'asta in cui magari Biraghi è andato a 16, in un'asta in cui UEA è andato a 17, Bellanova è andato a 17, Mazzocchi è andato a 11, Zappacosta è andato a 12, Oliveira è andato a 13, Dodò è andato a 13. Ecco, avrei investito più sugli esterni che sui difensori centrali. Tutto sommato va bene, cioè non è che mi sento poi di criticare così tanto la squadra di Brogni e di Bonolis, però la difesa secondo me poteva essere gestita un po' meglio. Hanno gestito invece tanto 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 bene il centrocampo, ve lo ammetto io, e ve li cito in ordine di prezzo. Il loro top reparto pagato 26 è Adrien Rabiot. Ottima scelta a mio avviso. Adrien Rabiot è un giocatore che segna tanto tanto che lo scorso anno ha fatto la differenza, ha iniziato bene anche quest'anno in realtà, subito sto mandando in gol, facendosi vedere, non confermerà quanto fatto lo scorso anno secondo me, abbasserà un pochino il tiro, però è un giocatore, a mio avviso, davvero importante per la Juventus, e che al fantacalcio è uno di quelli che andrebbe preso sempre. 26 è un investimento importante, però considerando che più o meno erano quelli là i prezzi, cioè considerate che De Ketelare è stato pagato 23, Pellegrini 30, quindi insomma 26 per Rabiot è tanta tanta roba. Il secondo calciatore più pagato a centrocampo è Mkhitaryan, 25. Su questo possiamo anche parlarne. Allora, in questo momento Inzaghi vede Mkhitaryan come il super titolare, e quindi è giusto prenderlo, poi è un finto, una finta mezzala, no? Cioè lui si incunea, si inserisce, si fa vedere in avanti. Dall'altra parte però, ok una finta mezzala, consideriamo anche il fatto che lì l'Inter ha preso Frattesi. Ora, in questo momento, in realtà, Inzaghi vede più Klassen come vice Mkhitaryan e Frattesi come vice Barella, però in un investimento di questo tipo, io penso che poi l'obiettivo finale sia quello di far giocare sia Frattesi che Barella in campo insieme. Comunque al momento l'acquisto è molto intelligente. Quindi Buonaventura, 20 crediti, ci sta. Ora, ripeto, Buonaventura è eterno. Bisognerebbe capire in che stagione è, se la stagione che farà è quella che abbiamo visto di partenza qualche giorno fa, tanta tanta roba. Buonaventura è un attaccante che gioca a centrocampo, è un trequartista che fa un sacco di gol, fa diversi assist, è un giocatore importante. Loro ragazzi hanno fatto un centrocampo, secondo me corposo, di tutto rispetto, con tanti calciatori molto molto interessanti. Secondo me ci sono le possibilità, diciamo, garantire che loro abbiano uno dei centrocampi più forti di questo fantacalcio. Hanno puntato tanto, tanto, tanto sui centrocampisti e lo notiamo anche dal quarto centrocampista che probabilmente sarà l'ultimo dei titolari, anche perché mi viene da immaginarmi un 3-4-3 come rosa per quello, insomma, che vado a vedere. E quindi colpani del Monza a 16. Allora, è partito benissimo. È più in hype di quello che si merita, no? È un po' un cupo miner, cioè nel senso tutti i paro colpani, 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 colpani. Colpani a 16, secondo me, è il prezzo giusto, nel senso non sappiamo se farà bene, come si dice, o semplicemente sarà nella media. È in hype tantissimo, lo valuteremo durante l'anno. Però comunque in questa rosa ci sta, e soprattutto in una rosa in cui hai rabbio, in una rosa in cui hai buonaventuri, in una rosa in cui hai McKennie, colpani che comunque è un titolarissimo, che ne giocherà 38 su 38. Secondo me è un investimento lecito che i brognolis fanno e intelligentemente pure, aggiungerei. A questo punto passiamo agli altri quattro. Investono 9 crediti su Ederson dell'Atalanta. Lo volevo anch'io, a 10 no, a 9 sì. Bel giocatore Ederson, veramente bel giocatore. L'ho avuto l'anno scorso, ha giocato praticamente tutte le partite. Non è un giocatore che segna con continuità. Ogni tanto la palla la butta in rete, ma veramente poca roba. Ok, leggo che ha fatto un gol e un assist l'anno scorso. Infatti lo odiavo. Però a 9 crediti ci sta che li investi. Ha giocato praticamente sempre. Per la precisione 34 partire su 38 è andato a voto. Cioè dai, oggettivamente avere Ederson in squadra è una buona mossa. Poi una scommessina a 4. Reinier del Frosinone. In realtà a 1 l'avremmo preso anche noi. È una bella scommessa secondo me il Reinier. Ci provi, fai il tentativo, non è male. A Madrid se ne parlava un gran bene, a Frosinone avrà la possibilità di avere meno pressione e mettersi in mostra. Io approvo appieno l'idea di andare a prendere Reinier. Approvo meno appieno l'idea degli ultimi due presi a 1. Perché capisco che avrebbero voluto spendere poco, però avrei fatto almeno le coppie se dovevi prendere dei giocatori non titolari. Il primo è Sottil della Fiorentina 1. Il discorso qual è, regà? Che Sottil in una piazza lontano da Firenze magari è anche molto molto forte. Ma alla Fiorentina quando gioca Sottil? Cioè per farvi capire, lo scorso anno Sottil è andato a voto appena 16 volte su 38. È vero che quest'anno è partito bene giocando praticamente tutte le partite, ma da ridolare ha giocato solamente la seconda perché la Fiorentina ha fatto, diciamo, il turnover perché tre giorni dopo aveva la conferenza Liga da dentro fuori, aveva perso l'andata. Cioè quindi dubito fortemente che Sottil giocherà così tanto. E l'ultimo nome è Cataldi a 1. Allora, sulla carta adesso Cataldi ci sta. Però per me è destinato a giocare Rovella sulla mediana, quindi secondo me gli ultimi due non mi potevano essere a 1. Cataldi e Rovella in modo che avevi il titolare e il panchinaro. Poi se loro credono che Cataldi giocherà a titolare per tutto l'anno, allora hanno fatto bene a prenderlo a 1. Personalmente questa non è una cosa che io credo. Io credo che invece Cataldi perderà il posto anche perché Rovella per me è molto più forte. Però ripeto, questi sono i miei due centesimi. Al loro centrocampo do un buonissimo 8,5. Hanno fatto dei grandi investimenti secondo me. Rabiot è un giocatore che ti può garantire quasi doppia cifra in gol e quasi doppia cifra in assist per questa stagione. Buonaventura è un giocatore che andrà spesso a bonus. Mkhitaryan è un giocatore che gioca sempre e che fa anche gol delle volte pesanti. Colpani può essere l'ottima sorpresa. Hanno tanti, tanti, tanti titolari e soprattutto non hanno investito a centrocampo ma nemmeno in attacco in realtà su calciatori né africani né asiatici in modo da non perderli a gennaio. Sono arrivati in attacco che in realtà avevano ancora diversi crediti. Ben il 58,4% di budget. E quindi, e quindi passiamo all'attacco. In attacco ragazzi il primo nome, l'avrete vista, è stato Lautaro Martinez. Hanno investito 230, fanta, crediti su Lautaro Martinez. Praticamente il 40% del budget è andato per l'argentino. È una mossa difficile, pesante però è una mossa che ci sta. Cioè Lautaro Martinez è l'attaccante dell'Inter. Più di qualunque altro attaccante. È l'attaccante della squadra favorita per vincere lo scudetto. Ed è un giocatore che se vincesse la classifica capocannonieri non mi sorprenderebbe. Io personalmente credo che Lautaro Martinez sia un investimento giusto anche se poi io quei crediti, tutti quei crediti non li avrei mai spesi. Eppure, dicendo la verità, poi loro comunque sono riusciti a formulare un buon attacco anche avendo speso 230 per Lautaro. A differenza degli altri anni, io ricordo lo scorso anno noi prendemmo immobile a 250 e dopo però non avevamo più nessun credito prendemmo tutti gli altri attaccanti a uno. E infatti loro alle spalle di Lautaro Martinez ci hanno messo Caprari pagato 22. Che è una mossa che ci sta. Caprari a Monza giocherà sempre. Lì è vero che il Monza c'ha anche Danimota e anche Colombo. Però dovrebbero giocare loro. Cioè dovrebbero giocare proprio Caprari e Danimota sulla tre quarti alle spalle di Colombo. E come se non fosse abbastanza hanno speso 19 prendendo anche Ingonge del Verona. Che è un altro titolare che giocherà sempre che può essere un crack di questa stagione e averlo preso come terzo per prezzo in attacco secondo me è una mossa molto molto intelligente perché Ingonge è un giocatore che ha finito bene ha iniziato come ha finito e per me insomma sarà un'ottima sorpresa. Completano il reparto con i 10 crediti spesi per Milik non so perché l'hanno preso Milik a 10 personalmente. Cioè io me lo sarei preso a 1 come dice Vlaovic però a 10 non so quanto giocherà. La Juve non ha nemmeno le coppe. Magari sì qualche partita la fa ma per me giocherà molto poco. 7 crediti per Sanchez che magari ci credono. Ci sta. Sebbene Sanchez sia il doppione di Durama secondo me non è il doppione di Lautaro. Io vedo più Arnautovic come il doppione di Lautaro. Però se loro vedono Sanchez come il doppione di Lautaro la mossa è assolutamente azzeccata quindi Sanchez a 7 e l'ultimo colpo ci hanno provato hanno preso Castellanos a 4 che mi sembra un ottimo nome anche perché la Lazio ha speso un botto di soldi per prenderlo e è vero che ci hanno immobile però tanto spazio glielo daranno soprattutto per i Champions League quando avranno match un po' più tranquilli quando ci saranno turni infrasettimanali insomma credo che il calciatore che arriva dall'MLS qualche minutino possa ritagliarselo durante l'anno e per averlo pagato 4 mi sembra un'ottima scelta. All'attacco do un 9 cioè secondo me aver preso Lautaro Martinez a quella cifra è esagerato per questo non do 10 però comunque credo che siano riusciti a fare un ottimo attacco aggiungendoci Capraro, Ingonge, Castellanos con appunto aver preso anche Lautaro Martinez quindi penso che si siano mossi ottimamente. Andiamo a vedere qui alla mia destra uno spunto di formazione rapida in porta Provedel con in difesa Bastoni, Pavar e Buongiorno a centrocampo dovrebbero schierare quando ce li hanno tutti al top Rabiot, Mkhitaryan, Colpani e Buonaventura davanti attacco a 3 con Lautaro, Caprari e Ingonge a questa squadra io, Sickwolf, do 7,5 perché credo che sia una squadra molto forte equilibrata sebbene in difesa siano state fatte delle scelte forse un po' impopolari che però a fine anno potrebbe alzare il trofeo al cielo e allora fatemi sapere la vostra, il vostro voto il vostro commento qua sotto nei commenti io vi ringrazio, vi da lasciare tantissimi mi piace buo ce lalane come sempre ci vediamo al prossimo video